I candidati che vengono sotto i riflettori, Andrea Coffi, Marco Ghizzani, Fabio Guarducci, il vincitore del premio Ajak Coverciano per quanto riguarda l'eccellenza è Ghizzani. La cosa importante è di perdere, però la voglia c'è sicuramente, ce la metterò tutta per emergere per questo lavoro, per fare sì che diventi un lavoro. È una copia, diciamo così, perché oggi pensare che lo diventi è una cosa difficile, però sicuramente è una cosa che mi piace, una cosa che ho fatto un massimo impegno e spero di portare a fondo questa avventura.